Dunque, ormai è ufficiale, le votazioni per le elezioni del nuovo sindaco e del Consiglio Comunale di Licata si terranno domenica 31 maggio dalle ore 8 alle 22 e lunedì 1 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Eventuale turno di ballottaggio in programma nelle giornate di domenica 14 giugno dalle 8 alle 22 e lunedì 15 giugno dalle 7 alle 15. A seguito di quanto stabilito dall'assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica, il commissario straordinario Maria Grazia Brantara ha già diramato le date di votazione mediante l'affissione di un pubblico manifesto diramato dalla residenza municipale. Le operazioni preliminari delle sezioni elettorali avranno inizio sabato 30 maggio alle ore 15 o prima delle ore 6 di domenica 31 maggio. Ed intanto proseguono gli appuntamenti elettorali dopo la conferenza di domani dove sarà presentata alla città la candidatura del dottor Gianluca Ciotta, sindaco di Licata per il Movimento 5 Stelle e in programma per domenica 19 aprile con inizio alle 10 in piazza Matteotti il primo di una serie di incontri che vedranno protagonisti i portavoce del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato di Licata. Saranno il senatore Vincenzo Maurizio Sant'Angelo e l'onorevole Chiara Di Benedetto, gli ospiti del primo evento targato 5 Stelle. Si parlerà soprattutto di tematiche riguardanti il disastroso stato delle strade siciliane. Oltre ai portavoce nazionali interverrà anche il candidato a sindaco di Licata dottor Gianluca Ciotta. Nei prossimi giorni saranno diramate le date degli altri eventi che vedranno protagonisti altri senatori e deputati del Movimento 5 Stelle tra cui Azzurra Cancelleri, Nicola Morra, il presidente della commissione di vigilanza Rai Roberto Fico, Mario Gianrusso e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Ed intanto il candidato a sindaco Giuseppe Galanti interviene oggi con un comunicato stampa sul potenziamento degli sportelli della società riscossione tributi siti in via dalla Chiesa per eliminare i disagi causati dalle interminabili file presso gli sportelli di Licata, causati da un errore della stessa società avendo distribuito avvisi per il saldo tari anno 2014 con riportate tariffe non conformi a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre prescorso. Il candidato Giuseppe Galanti in quanto cittadino prima che candidato si legge nel comunicato ritiene vergognoso che in un paese civile possano registrarsi tale situazioni pertanto reputa necessario avvalersi di un servizio di prenotazione online attraverso il quale stabilire quando poter usufruire del servizio per il pagamento della tassa ed evitare così interminabili code che rischiano di creare ulteriori stress ai cittadini. Valido supporto o filtro ritiene Galanti potrebbero essere i patronati ai quali i licatesi potrebbero rivolgersi. E' chiaro conclude il candidato sindaco Galanti che risulta fondamentale il potenziamento del personale degli uffici della società di riscossione tributi attraverso il quale rendere più agevole un servizio che al momento sarebbe ironico definire tale. Pagare le tasse è un dovere avere i servizi e un diritto conclude Galanti.